Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo un set di pinzette, di pinze, adatte per mini trapanini. Sono delle pinze che chiudono punte da 0,3 mm a 3,2 mm. Vedete le varie sezioni e vengono montate normalmente su dei trapanini sia manuali che elettrici. Andiamo da sezioni molto piccole a sezioni più grandi. La punta più piccola che si può portare è da 0,3 mm, mentre vedete queste bussole dove i diametri sono più grandi, sono più aperti, si inseriscono punte anche più grandi, sino a 3,2 mm. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo nel prossimo nostro video. Grazie, buona giornata. Grazie a tutti.